Sarà svolta un'importante operazione a tutela dell'ambiente a Ponte Cagnano-Faiano, il tutto grazie all'azione di vigilanza del nucleo elicotteristico di Carabinieri che nel pomeriggio di ieri nel quartiere Magazzeno hanno effettuato dei controlli atti a prevenire il fenomeno di reati predatori, attenzionando in special modo quelle aree occupate da cittadini extracomunitari. Il sindaco Giuseppe Lanzara, che ha accompagnato i militari sul posto per verificare la situazione con una nota, ha espresso soddisfazione. Grazie a questa forte azione di vigilanza, il nucleo elicotteristico di Carabinieri riesce a contrastare fenomeni come lo sversamento di sostanze nocive nei corsi d'acqua e l'abusivismo, tutte pratiche che danneggiano gravamente la nostra terra. Inoltre, proprio ieri, nel quartiere Magazzeno, prosegue Lanzara, sono stati effettuati dei controlli atti a prevenire il fenomeno dei reati predatori, attenzionando in special modo delle aree occupate da extracomunitari. Un ringraziamento particolare va a chi ha coordinato le operazioni, il colonnello Sarica, il comandante Laurentini, il maggiore Sisto, il tenente Maddalena e il comandante della Polizia Municipale, Lancetta. Infine, il primo cittadino ha aggiunto. La nostra attenzione sul territorio della tutela ambientale e della sicurezza del territorio sarà sempre al centro della politica di sviluppo di Ponte Cagnano-Faiano. Grazie.